ciao ragazzi bentornati nel mio tugurio sto per girare un video per voi dove andrò a parlare del kit di pulizia per i nostri obiettivi fotografici ora vi mostro un po l'attrezzatura che sto per utilizzare il mio pannello posteriore con gli stativi eccoli qua poi andrò siccome sta scendendo la luce ambientale andrò a utilizzare nuovamente il mio pannello della newer e logicamente per la ripresa la mia nikon il video uscirà a marzo mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati ci vediamo ciao